Musica Annuncio i nomi dei vincitori Tau Award 2020 Bob Taylor, grazie Bob Taylor, l'attore Fabio Fulco, Oscar di Montigny Tau Award 2020 per l'innovazione, Antonio Grimaldi, lo stilista che riceverà il Tau Award Oc Couture per la moda 2020, Jacopo Mastrangelo che quest'anno riceve il premio speciale il Tau Award per la musica, Daniela Fedi il Tau Award per il giornalismo di moda, Tau Award Excellence per il giornalismo al direttore Carla Vanni, direttore di Grazia Mondo, Federica Tosi Tau Award per la moda Pret-a-Vortè 2020 e Tau Award Excellence andrà ad Antonio Marras, Mario Trimarchi Tau Award per il design. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie Taormina e continuiamo su quella strada. Grazie e buon proseguimento.